Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951 e delle cose che dico io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei, buongiorno a tutti. Oggi parliamo delle zone F. Dovete sapere che il nostro piano regolatore era un piano regolatore fatto un poco a modo suo, anzi a modo loro, dei signori del Politecnico di Milano. Pensate che era così astratto questo piano regolatore che per collegare Torricelli al resto della città prevedevano un sottopassaggio che cominciava Torricelli e sotto sotto sfociava praticamente oltre Masiello. Capite bene cose irrealizzabili. Noi abbiamo fatto la strada, viale 14 giugno e abbiamo risolto il problema molto più praticamente. Nell'ambito di questo piano regolatore, fatto così, ripeto, in maniera molto didattica, è un'esercitazione che fecero gli alunni del Politecnico, senza nessun riferimento concreto alla realtà di Cerignola. Questo piano regolatore prevedeva tutta una serie di aree F, zone F, parcheggi, verde pubblico, cose di questo tipo. Senza tenere presente che, trattandosi di aree private, il privato mai avrebbe costruito un parcheggio o un barco pubblico sul terreno suo senza guadagnarci nulla. Senza tenere presente al tempo stesso che il comune non aveva, non ha e non avrà mai i soldi necessari per fare espropri e per destinare queste zone a quella ipotesi di parcheggi, di aree verde, di parco cittadino. Non avevamo, non hanno e non avranno mai i soldi. Risultato, tutte queste zone erano zone non utilizzabili perché non conveniva al privato utilizzarle. Ed è successo così che a Cerignola noi abbiamo fenomeni strani. Tenete presente via Nizza, da un lato tutta costruita, condomini anche belli, eleganti, esercizi commerciali, di fronte a una zona totalmente abbandonata. Perché? Perché era una zona che doveva essere destinata a parcheggi. E chi lo fa il parcheggio che poi deve ricavare 50 centesimi a macchina che si parcheggia? Noi non potevamo lasciare la situazione della città in queste condizioni. Non la potevamo lasciare a Via Nizza, non la potevamo lasciare in fondo a Viale dalla Chiesa, dove si mettevano i circhequestri. Non la potevamo lasciare così all'angolo di Via Candela. Per cui, dato che poi è cambiata la normativa e questo ci permetteva di intervenire, e noi facemmo una bella delibera di Consiglio Comunale, approvata all'unanimità, si astennero e non dissero manco una parola quelli dell'opposizione di sinistra, per prevedere l'utilizzo possibile di queste zone che non dovevano rimanere abbandonate, ma in sinergia pubblico-privato bisogna dare ai privati la possibilità di un investimento e mantenere certi standard per quanto riguarda gli aspetti di carattere pubblico, i parcheggi, l'arredo urbano, i parchi. Un esempio di quello che noi abbiamo fatto è il McDonald proprio di Viale Plebiscito e Via Nizza. Quello è stato realizzato grazie al fatto che noi abbiamo modificato questa normativa, applicato l'interesse pubblico in una interpretazione più ampia, più estesa. Risultato? Abbiamo il McDonald, quella zona si è riqualificata e se si continuasse, se si continuasse, anche le aree a fianco al McDonald potrebbero essere utilmente usate, così come all'angolo di Via Candela potrebbe essere realizzato un supermercato rispetto al quale c'è già l'interesse di una società che ha presentato la documentazione, ha presentato il progetto, altrettanto per l'area di Via Generale dalla Chiesa, dove invece di lasciare quell'area completamente abbandonata si può realizzare un intervento terziario, cioè negozi, uffici, lasciando poi a parcheggio e area a uso pubblico tutta la zona circostante. Questa era la soluzione che noi avevamo trovato, non vi dico i particolari normativi, ma spero che il concetto sia chiaro, cioè i privati devono poter investire in sinergia con la pubblica amministrazione che si garantisce, là il parcheggio, là i parco giochi, là una zona verde, ma sempre favorendo l'investimento da parte dei privati, investimento che ovviamente deve essere remunerativo, perché il privato non investe se non trova un vantaggio. E questo non per un'area, per un proprietario, per una singola persona, una singola società, è una norma che ha approvato il Consiglio Comunale ed è valida per tutte queste zone F, perché l'obiettivo era quello di recuperare queste macchie di leopardo che deturpano la città. Non si è mai visto che a 50 metri dal comune di Cerignolo ci siano ettari di terreno incolto, abbandonato, destinato al degrado, alle sterpaglie, alle erbacce, all'immondizia. Quindi facemmo questa delibera di carattere generale e stabilimmo, credo in maniera molto opportuna e seria, che di volta in volta si andasse in Consiglio Comunale a identificare se per quelle zone singolarmente ci fosse l'interesse pubblico all'investimento, l'interesse pubblico per favorire un investimento privato che fosse di utilità comune. Questo anche per dare impulso alla nostra economia, perché vedete, noi siamo una città che ha come fonte di economia l'agricoltura, rispetto alla quale, onestamente, l'amministrazione comunale di qualunque tipo e colore può fare poco. E l'altra valvola di spogo, l'altra valvola di investimento, sono gli interventi edilizi. Più si aprono cantieri, più cammina, funziona, migliora l'economia, più ci sono posti di lavoro, più si riqualifica la città, più diventa la città bella, vivibile e più si allieva la situazione della disoccupazione. Perché per ogni mattone che si mette c'è tutto un indotto che lavora, c'è la mano d'opera che viene invegnata, ci sono gli artigiani. In più, sfruttanti, al McDonald's, voi pensate che arrivino solo i cittadini di Cerignola, vengono da fuori, vengono da Trinitapoli, vengono da San Pertinando, vengono da Stornare, Stornarello, Orta Nuova, da Carapelle, perché è un'attrattiva di carattere commerciale che porta gente a Cerignola. Quindi è tutta l'economia che si muove se noi facciamo queste cose. Purtroppo in questa città, ma non è solo Cerignola, è un po' dappertutto, c'è una categoria di persone, in genere sono dei falliti, dei frustrati, i vari trombati alle elezioni che ancora non hanno digerito le mancate elezioni, i tromboni sfiatati che da 15 anni sono mantenuti dallo Stato italiano, ma che non hanno fatto mai nulla per la loro città e in genere per la loro nazione, che hanno come scopo solo quello di bloccare, di fermare qualunque tipo di iniziativa che porti un cambiamento e che porti un miglioramento. E la colpa che io faccio al commissario principale, prefetto Postiglione, è proprio quella che invece di affrontare queste tematiche, magari, perché no, consultando anche i precedenti amministratori per chiedere, scusate, ma voi che volevate fare? Qual era la vostra intenzione? Come posso dare continuità all'attività amministrativa? hanno preferito farsi guidare e strumentalizzare da qualche personaggio, anche piuttosto mediocre, interno all'amministrazione, che persegue interessi personali o comunque interessi legati a aziende o a persone a cui è particolarmente affezionata. Questa è la colpa che io attribuisco al prefetto Postiglione e alla Commissione. Invece che dare fiato, spazio, attenzione alle varie lettere anonime che comunque arrivano per tentare di bloccare queste iniziative, bene avrebbero fatto invece a tenere sotto occhio i vari fascicoli, studiarli, farseli spiegare dai tecnici competenti, confrontarsi con gli amministratori precedenti per poi dare magari torto agli amministratori precedenti. Perché no? Non è detto che tu perché mi consulti devi essere per forza della mia opinione, ma cerca di capire qual è la strategia amministrativa. Perché vedete a me non piace fare la opposizione a questa Commissione, questi qua non è che hanno voluto venire, li hanno mandati. Quindi non è che hanno colpe originarie. Le colpe ce l'hanno nel loro approccio alle situazioni amministrative. Sto parlando di una situazione urbanistica, ma posso parlare di SIA, posso parlare dei fitti delle case comunali, posso parlare dell'evasione della Tari. Questi sono temi rispetto ai quali è sempre possibile avere un confronto anche con la precedente amministrazione e vedere come regolarsi in maniera tale che si possa dare dove le scelte fossero state corrette, continuità alle scelte corrette, dove ci fosse una scelta sbagliata, spiegare. In questo caso si fanno le conferenze stampa. Le conferenze stampa non si fanno per non dire nulla. Le conferenze stampa si fanno per dire ciò che si è fatto e la conferenza stampa se si trattava di discutere di quello che si è fatto durava 22 secondi perché non si è fatto assolutamente nulla, o parlare di quello che si vuole fare. Poi è ovvio che essendo la mia opposizione schierata in maniera acritica a favore della commissione che è arrivata, è evidente che anche per una valutazione di tipo politico che è assolutamente ovvia, conseguenziale, naturale, è ovvio che io prenda le distanze e che quindi mi giovi di questa situazione. Tutti quelli che hanno voluto la commissione oggi l'appoggiano, io dimostrando che la commissione non fa nulla o quello che fa lo fa in perfetta continuità, evidentemente ne traggo giovamento. Ma questa continuità, per esempio, sul settore, sulla questione urbanistica, va incentivata, va dato impulso. Cioè bisogna che questa città continui a crescere, questo è il problema che noi poniamo alla commissione. Siete venuti per amministrare? Amministrate, ma se voi volete amministrare senza fare nulla, preoccupandovi soltanto che la sedia che teneva a mettere era un po' scomodo, ora pigliamo una poltrona un po' più morbida, un po' più girevole, un po' più ergonomica, non è quello lo scopo per cui vi abbiamo chiamato, vi hanno chiamato in questa città. Altra cosa, l'approccio a queste scelte urbanistiche deve essere, cara commissione, molto più umile, perché a voi vi hanno mandato, a noi ci hanno eletto. E quindi quando noi abbiamo fatto certe scelte, le abbiamo fatte con la legittimazione che ci veniva dal consenso della gente, consenso che attualmente è ancora più forte, è ancora più importante, perché? Perché nel confronto fra l'attivismo nostro e l'immobilismo attuale è chiaro che l'attivismo dell'amministrazione precedente viene ad essere esaltato. Quindi dobbiamo lavorare su queste zone F, dobbiamo dare continuità ed esecuzione a quello che legittimamente il Consiglio Comunale di Cerignola decise, è decise nell'interesse della città. Bisogna risolvere questi problemi. Che male c'è a favorire la costruzione di una zona commerciale all'angolo di Via Candela? C'è tutta una zona abbandonata, anche qui, sterpaglie, degrado, immondizia, c'è la possibilità di realizzare una struttura commerciale in una zona molto popolosa, quartiere Torricelli, il quartiere tutto dell'assunta di Via Consolare, delle case popolari che si affacciano su Via Consolare, abbiamo riqualificato l'ingresso alla città, completare quel comparto è interesse della comunità, quindi interesse anche di Postiglione che è stato chiamato qui ad amministrare. Lo stesso dicasi per il Viale Generale della Chiesa, ma dico di più, Postiglione ha visto a fianco alla caserma dei Carabinieri, sta sempre insieme ai Carabinieri, chiedesse a qualcuno dei Carabinieri che lo accompagnano continuamente, io non ho mai avuto il piacere di salutare o di conoscere il Capitano dei Carabinieri, ma lui che ha continui rapporti, non so perché, forse deve essere protetto da che cosa, non c'è nessun pericolo in atto, chiedesse, a fianco alla caserma, ci sta un buco, è questo buco, quando lo vogliamo riempire, questo problema, quando lo vogliamo risolvere, lo capite che dalla stazione dei Carabinieri, indietro, dove stanno costruendo attualmente la RSA, fino all'Idl, e quindi fino al confine di un altro quartiere molto popolato, come quello delle Fornaci, c'è tutta una zona libera che deve essere riqualificata, riqualificata, immaginiamoci una soluzione, piazza Santa Maria Teresa di Calcutta, dall'altra parte della città, al confine con la Statale 16, c'è una vecchissima convenzione, parte realizzata, in parte no, noi abbiamo immaginato, deliberato, uno strumento urbanistico che rendendo appetibile l'investimento privato in quella zona, ci permettesse di risolvere il problema di quella zona, ma ci sono due aree completamente abbandonate in mezzo ai palazzi. Noi, in sinergia col privato, non per favorire il privato, ma per favorire l'interesse collettivo, abbiamo trovato una soluzione che va perseguita, a cui va data esecuzione, in maniera tale che il privato possa investire in quella zona, trovi rendimento economico nell'investire e al tempo stesso noi ci togliamo completamente dalle problematiche della città due aree abbandonate. Andate a domandare ai cittadini che si affacciano ogni giorno su queste zone abbandonate se non avrebbero piacere di avere una soluzione a questo problema. Noi l'avevamo trovata questa soluzione. Poi, chi evidentemente ha interesse a bloccare tutto, ha interesse a sfruttare questa situazione di stasi, fa una lettera anonima, le lettere anonime si leggono e il momento dopo si cestinano perché chi le scrive è un vigliacco, è uno che in genere non ha argomenti perché se avesse argomenti seri e validi metterebbe la sua rivedita firma sotto quegli esposti e direbbe alla magistratura, alla corte dei conti, al TAR, al Consiglio di Stato quali sono le sue ragioni. Invece si mette all'udibrio generale e all'attenzione di sua eccellenza Postiglione una serie di cavolate assurde prive di qualunque fondamento con il risultato di bloccare ogni iniziativa. Questa città partiva con decenni di svantaggio rispetto a tutte le città delle dimensioni di Cerignola nella stessa zona di Cerignola. Noi eravamo indietro. Abbiamo lavorato per recuperare questo distacco perché arrivando a Cerignola come è successo negli scorsi quattro anni la gente arrivando trovasse cose nuove trovasse cantieri aperti trovasse investimenti in corso. Magari io avessi potuto continuare a fare questo lavoro avrei aperto in tutte le zone che vi ho citato altrettanti cantieri per fare piacere a chi? A Tizio a Piazza Teresa di Calcutta a Cagno a Via Candela a Sembronio a Via Generale della Chiesa a Nevio in un'altra zona non è l'interesse per i privati è l'interesse perché a Cerignola si completi lo sviluppo urbanistico non si tratta di cementare Cerignola Cerignola il terzo agro d'Italia sapete quanto verde ci sta quante zone di possibile espansione di un verde urbano ci stanno si tratta di migliorare quello che stiamo facendo davanti alla scuola agraria invece di essere detto grazie da Pio Mio perché stava là abbandonato in mezzo ai rifiuti adesso sta al centro a fianco tiene il Superstore all'altro lato tiene il Palafamila davanti tiene la pista tutto riqualificato quando sarà finita sarà illuminata arredata frequentata usata da tutti i cittadini invece di dire grazie si dice no ma lì c'è la speculazione di quale speculazione parliamo magari la speculazione fosse questa la speculazione è quella che fanno in altri posti dove i palazzi cadono dove ci stanno le alluvioni dove ci stanno i danni terribili anche in termini di vite umane noi riqualifichiamo pensate attaccare qualunque candiere qualunque costruzione girate per Cerignola qualunque opera pubblico privata che sia in corso ha come corrispondenza decine decine di lettere anonime nella speranza che qualcuno trovi qualcosa di irregolare quattro anni non ho nemmeno un rinvio a giudizio non ho un'indagine seria contro di me o contro qualcun altro non c'è una speculazione che è stata individuata c'è solo questa volontà da parte ripeto dei frustrati dei trombati di quelli che sentono perdere terreno sotto i piedi quotidianamente di bloccare quello che faceva l'amministrazione e concludo noi avevamo dato quell'imbulso voi vi siete organizzati insieme a quattro giornalai insieme a quattro frustrati per bloccare questo sviluppo parzialmente e temporaneamente ci siete riusciti ma voi lo sapete io ho molta fiducia che nel futuro ci sarà giustizia e ci sarà verità è solo una questione di tempo e nemmeno di troppo tempo ma io dico si rendono conto queste persone che al consenso che noi avevamo guadagnato con questa attività stanno aggiungendo altro consenso che deriva dalla insoddisfazione dei cittadini di vedere tutto bloccato questo è il difetto l'errore l'errore clamoroso se io fossi una persona che vuole approfittare starei zitto starei zitto lascerei che tutte le cose si fermassero per poi dire avete visto quando c'ero io le cose andavano bene adesso vanno male ma dato che io voglio bene ai miei concittadini e voglio bene alla mia città fino a quando non riavrò il potere di incidere userò tutti i mezzi per incitare coloro che sono venuti ad amministrare questa città ad amministrarla realmente e seriamente a fare non a bloccare non a chiudere non a imbedire ma a fare questo è quello che noi chiediamo alla nostra commissione non fermate il cambiamento che noi avevamo avviato date impulso a questo cambiamento e poi ve ne siete accorti lo state dicendo ad ogni piesso spinto non avete trovato nessuna nessuna mafia non avete trovato nessuna infiltrazione qua l'unico problema è che questa città deve crescere con noi stava crescendo adesso si è fermata ma per quanto tempo la volete tenere ferma io sto facendo tutto e anche un po' più di tutto per accelerare i tempi del ritorno dell'amministrazione che è stata democraticamente eletta una persona intelligente una politica avveduta sto parlando di Elena Gentile sul punto tace perché sta zitta perché essendo in mezzo ai paesi dei cecati quella un occhio è la migliore essendo monocula ha potuto constatare come si ha tutto un grandissimo errore una grandissima invenzione so che l'ha detto non lo ripeterà mai pubblicamente ma so che l'ha detto e che lo pensa e che tutto questo parole di Elena Gentile si ritorcerà contro gli oppositori di Metta e a favore di Metta ecco perché Elena Gentile che ha la vigilia di un'elezione regionale per lei molto complicata e difficile tace perché evidentemente non vuole subire l'effetto boomerang peccato che sia circondata da persone ho detto quello a un occhio nel paese dei cecati è circondata da cecati che non si rendono conto che più insistono su questo tema più sarà terribile la delusione che li aspetta ci sentiamo domani occhio a vero